Noi pensiamo al turismo come uno dei settori dell'economia pur essendo una città industriale attraverso dei percorsi, cinque percorsi nel paesaggio, nell'ambiente ciclo diciamo ciclabili con bici da cross ovviamente e pensiamo e presenteremo a breve tra un qualche mese, una mesata, poco più anche un portale turistico, un luogo turistico e stiamo anche diciamo lavorando su una pubblicazione sulle radici storiche della città di Vallefoglia quindi questo binomio ambiente, storia, cultura, paesaggio diciamo gli aspetti floristici, faunistici che sono un unicum in questo territorio che è rimasto integro nella parte alta dove non ci sono le fabbriche perché insomma questa è una città industriale e quindi pensiamo che sia un'ottima cosa anzi se ci riusciamo insieme ai comuni di Urbino, di Petriano, di Isola del Piano e con la provincia di fare anche una segnalettica di questi percorsi cicloturistici e quindi diciamo dare importanza a tutto questo che è diciamo la parte più importante dal punto di vista delle radici storiche di questa città che sono importanti perché hanno tutti i personaggi di caratura nazionale ed è veramente un territorio molto importante insomma cito solo per non far torta a nessuno col Delce che è un luogo meraviglioso ma insomma tutta la parte dei tre castelli Montefabri, Colbordolo, Sant'Angelo in Lissola, Magia in Estreto, Monte Cicardo, Montbarocci insomma parafrasando tra peso urbino insomma c'è tanta di quella roba dal punto di vista storico e culturale ambientale e paesaggistico e no gastronomico perché si mangia da Dio in tutti questi luoghi quindi pensiamo insomma che nel giro di qualche mese, due o tre mesi massimo dovremmo avere tutti questi percorsi e essere punto d'attrazione è importante anche per i turisti che ruotano nel centro Italia ovviamente se riusciamo, insisto sempre su questo, ad evitare nella maniera più assoluta assembramenti perché noi siamo circondati dalle zone rosse che sono Ancona, Perugia, ahimè, anche Riminese e quindi noi vorremmo, come ho detto scherzando ma la verità si dice sempre scherzando vorremmo tornare zona bianca come è la Sardegna, dipende dai cittadini, dipende da ognuno di noi se non facciamo assembramenti, se manteniamo le distanze e se teniamo le mascherine in attesa dei vaccini noi potremmo avere contagi zero, noi siamo circa 50 contagi che sono una percentuale molto bassa però insomma ecco anche nelle attività cicloturistiche e no gastronomiche stiamo pure attenti insomma